La puntata di Uomini e Donne del 7 dicembre 2023 inizia con Ida Platano al centro studio con gli altri due tronisti. Arriva il suo corteggiatore, Mario, e Maria De Filippi commette una gaff, chiamandolo Alessandro. La conduttrice inizia a ridere e poi svela a Ida che il ragazzo dietro le quinte aveva palesato la sua idea di lasciare il programma. Tale pensiero è nato vedendo la Platano litigare animatamente con vicinanza in studio. Poco prima, infatti, è nato un fortissimo scontro tra i due ex fidanzati, che sembra aver spaventato Mario. Ecco cosa rivela Maria. Lui se ne voleva andare perché quando ha visto te discutere con Alessandro ha pensato che c'è qualcosa ancora. A questo punto, Ida spiega di non essere più interessata a vicinanza. Si è lasciata andare alla lite con Alessandro in studio solo perché è rimasta delusa da come lui si sta esprimendo sulla loro storia. Dopo aver parlato delle situazioni di Christian e Brando, ecco che siedono al centro studio Roberta Di Padua e Alessandro a Uomini e Donne. Si tratta di una nuova registrazione, ma i protagonisti del programma sono vestiti tutti con gli stessi look delle puntate precedenti. Questo, come accaduto nei mesi scorsi, è un dettaglio che non passa inosservato. Tale scelta deriva dal fatto che le due registrazioni, per questioni di tempistiche, sono state unite e per non creare uno stacco evidente, la produzione ha pensato di chiedere a tutti di vestirsi allo stesso e per non creare uno stacco evidente, la produzione ha pensato di chiedere a tutti i nostri